What's up a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo video. Come di solito mi succede ragazzi quando mi metto a registrare video di riflessione tipo questo, ovviamente non mi sono preparata alcun discorso, faccio sempre questa premessa per mettere le mani avanti e quindi avvertirvi sul fatto che molto probabilmente il video durerà un po', spero non troppo, anche questa volta, e quindi non ho una scaletta da seguire, quindi è molto probabile che i miei pensieri salteranno un po' di qua, un po' di là, si mischieranno fra di loro, quindi forse non sarà proprio un discorso lineare e preciso, ma non so ragazzi, volevo condividere con voi alcuni pensieri. È successo che, insomma, c'è stato un fatto nello specifico che mi ha portato a riflettere su un argomento che mi riguarda anche personalmente ragazzi, e questo argomento, come avete capito anche dal titolo, riguarda l'emotività. Chi mi conosce da diverso tempo, qua su YouTube, o comunque in qualche modo anche sul sito Viola, sa benissimo che io sono una persona estremamente sensibile, quindi di conseguenza anche estremamente emotiva, quindi ovviamente ragazzi faccio riferimento, ad esempio, al fatto che mi può capitare, a volte giocando, insomma, giochi, per quanto riguarda comunque le mie attività sul web, insomma, mi può capitare appunto di commuovermi, di mettermi a piangere, insomma, non è appunto una novità, chi mi conosce da tempo questo lo sa. Perché allora mi sono messa a riflettere su tutto questo? Perché è successo che Marco Mengoni, ragazzi, sapete benissimo di chi sto parlando, tra l'altro ha vinto appunto anche l'ultimo Sanremo, che è finito appena la settimana scorsa, Marco Mengoni, quindi, cosa ha fatto, ragazzi? In conferenza stampa, quindi davanti a tanti giornalisti, comunque tante persone, ad un certo punto ha detto una frase che mi ha portato poi a riflettere su questo argomento, perché prima di commuoversi, perché forse impreda comunque alla felicità, impreda comunque anche alla stanchezza, ragazzi, a tutto lo stress accumulato, quindi si è commosso, quindi ad un certo punto, prima di commuoversi, ha detto questa frase più o meno, ovviamente non me la sono scritta parola per parola, ma il concetto era, purtroppo io ho un grandissimo difetto, insomma un grandissimo problema, ha detto, temo uno dei miei più grandi difetti, sono molto emotivo. E poi, quindi, si è, insomma, si è commosso, ragazzi, si è addirittura girato di spalle, forse impreda un po' di vergogna, non lo so, si è messo a piangere fondamentalmente, ovviamente cercando di trattenersi. E questa frase, questa sua frase, mi ha fatto molto riflettere. Perché? Perché, appunto, come vi dicevo, è un argomento che riguarda anche me personalmente, perché nel corso di tutti questi anni su YouTube e di questi ultimi anni sul sito Viola, qualcuno di voi forse lo sa anche, sono stata più volte accusata, ragazzi, di fingere. Riguardo la mia emotività, nel senso, sono stata accusata di far finta di commuovermi, di far finta di piangere di fronte a certe scene, a certi giochi, quindi sono stata praticamente accusata, ragazzi, di essere una persona falsa, a una persona che finge di mettersi a piangere per cercare di acchiappare qualche views in più, o qualche like in più, o non lo so, cercare di acchiappare la pietà delle persone, sinceramente non lo so neanche io cosa queste altre persone ci abbiano visto, ma il sunto del discorso è quello. Quindi sono stata accusata di essere una persona fondamentalmente falsa, che fa finta di essere sensibile ed emotiva per cercare di, non lo so, accaparrarsi qualche scritto in più, qualche views in più. Io penso che già di base questo discorso sia, ragazzi, già solo a dirlo sia abbastanza ridicolo, perché sinceramente io non so, non so veramente, per me è inconcepibile tutto questo, quindi non so neanche tanto come rispondere a una cosa del genere, nel senso che cosa, cioè, io mai avrei voluto guadagnare dal far finta di piangere, cioè nel senso avrei mai, magari potuto cercare di trovare altri modi, se veramente fosse stato quello il mio intento, ragazzi, di accaparrarmi like, views, eccetera, magari avrei potuto cercare altri modi di accaparrarmeli, piuttosto magari di fare la scena della finta piagnona, perché è così che sono stata definita, ragazzi, sono stata definita quella che piagne sempre, praticamente. Quindi penso magari appunto che avrei potuto trovare altre modalità per ottenere qualche views in più, piuttosto che sminuirmi, tra molte virgolette, così tanto a fare la scena di quella che si mette sempre a piangere. Quindi io direi che già di base proprio questa accusa, tra virgolette, non ha il minimo fondamento, perché io non ci avrei guadagnato nulla, davvero, ragazzi, anzi, se non vedete, appunto, una delle poche cose che ho ricevuto dal, insomma, passare da quella che piangere sempre, è stato appunto il disprezzo, insomma, di alcune persone che mi hanno semplicemente definito una povera stupida che si mette a piangere per niente. Da un altro lato mi fa piacere che comunque invece ci siano state tante persone che comunque abbiano apprezzato questo lato emotivo di me. E quindi voglio arrivare al punto su cosa mi sono messa a riflettere, ragazzi, visto che quest'argomento mi tocca personalmente anche nel profondo. Mi sono messa a riflettere, ragazzi, sulla frase che ha detto Mengoni, nel senso che ci dovrebbe far riflettere un pochettino a tutti. Per quale motivo mi sono chiesta, dopo aver sentito questa frase, l'essere emotivi dovrebbe essere un problema? Per quale motivo l'essere emotivi dovrebbe essere un difetto? Per quale motivo? Cioè, in che mondo di merda viviamo, ragazzi? Se una persona sensibile ed emotiva deve sentirsi di avere questo bagaglio sulle spalle che non può che creargli problemi, ma in che mondo di merda viviamo, ragazzi? Cioè, per quale motivo una persona sensibile ed emotiva deve vergognarsi della propria emotività? In che mondo di merda viviamo se una persona emotiva si deve vergognare della propria sensibilità? Penso in un mondo veramente molto marcio, ragazzi, perché al giorno d'oggi e nella vita di tutti i giorni io credo che siano veramente tante altre le cose di cui una persona dovrebbe vergognarsi. Di sicuro non proprio la propria sensibilità e la propria emotività. Quindi, perché? Perché mi chiedo? Una persona deve arrivare a considerare questo un difetto. È una cosa che è successa anche a me, ragazzi. Forse succede tuttora. Mi è sempre successo. Io adesso parlo comunque della mia attività su YouTube perché è sicuramente il fatto di essermi esposta, tra virgolette, su YouTube che mi ha portato a ricevere critiche riguardo la mia emotività e che quindi queste critiche mi hanno portato a chiedermi se fossi in qualche modo sbagliata. E a distanza di anni, con la consapevolezza forse che ho adesso, ragazzi, all'età di quasi 32 anni, a distanza di anni, mi rendo conto che questa cosa è una cosa mostruosa. È una cosa aberrante il fatto che una persona emotiva debba iniziarsi a chiedere se il commuoversi per qualsiasi motivo sia un difetto, sia un problema, sia sbagliato. Credo che sia qualcosa di veramente mostruoso perché, come dicevo prima, al giorno d'oggi penso che i problemi veramente seri, ragazzi, di cui uno dovrebbe vergognarsi siano davvero altri. E quindi il fatto di dover arrivare a credersi sbagliati per il semplice fatto di piangere per qualsiasi motivo, penso sia una delle cose più assurde che io abbia mai sentito in vita mia. E me ne sto rendendo conto oggi, ragazzi. Vedete perché a volte certe cose sono importanti? Perché una semplice frase, come quella che ha detto Marco Mengoni, mi ha fatto scattare qualcosa nel cervello. E mi sono detta, sono anche una persona emotiva, sono stata anche io criticata per la mia emotività, sono stata addirittura chiamata falsa per la mia emotività. E me ne sono fatta un problema. E quindi oggi, dopo che mi è scattata questa cosa nella testa, mi chiedo, ma è giusto? È giusto doversi sentire sbagliati perché si è empatici? Perché si è empatici nei confronti comunque delle persone, ma nei confronti anche delle situazioni, nei confronti di qualsiasi cosa, ragazzi. Ci si deve sentire sbagliati perché si prova empatia. Ma stiamo scherzando? Cioè, mi sto rendendo conto oggi, ragazzi, di quanto sia assurdo tutto ciò e di quanto io mi senta oggi in diritto di mandare a fare in culo tutte le persone che mi hanno fatto sentire sbagliata, mi hanno fatto sentire inadeguata, mi hanno fatto sentire di dovermi vergognare per la mia emotività. Ve lo dico proprio oggi con tutto il cuore. Vaffanculo a quelli che credono che essere emotivi sia una cosa di cui ci si debba vergognare, ragazzi. Perché sinceramente io non mi scambierei mai con questa gente. Non mi scambierei mai con persone che vogliono far sentire inadeguate altre perché magari si commuovono guardando un film o perché magari si commuovono guardando un videogioco. Io non mi scambierei mai con sta gente perché voi cosa avete dentro? Cosa avete dentro? Il nulla, il vuoto. Io non mi scambierei mai con voi perché la mia sensibilità, la mia emotività mi fanno sentire di essere viva ma soprattutto di essere empatica e l'empatia purtroppo al giorno d'oggi soprattutto è una cosa veramente rara e non lo sto dicendo per tirarmela io, ragazzi, ma perché è un dato di fatto, perché lo si vede perché se un Marco Mengoni deve arrivare a dire di sentirsi sbagliato per la sua emotività significa che il mondo qua intorno, ragazzi, è veramente molto poco empatico ma questa è una cosa che credo si verrà tutti i santissimi giorni. Ragazzi, io non mi scambierei mai con sta gente, ripeto. Non mi scambierei mai con voi che non siete capaci minimamente di immedesimarvi in qualsiasi cosa facciate nella vostra vita. A me, personalmente, sembra impossibile non riuscire a commuoversi con niente. A me, personalmente, sembra impossibile, ragazzi, perché me sa proprio di vuoto, cioè di un buco cosmico che c'avete dentro di voi che a me fa paura e dovrebbe far paura un po' a tutti, ragazzi. La mancanza di empatia che ci sta oggi nelle persone dovrebbe far paura un po' a tutti perché per me è inconcepibile. E io ho finito, ho smesso di sentirmi sbagliata perché me vi è da piangere, ragazzi. Ma sapete che vi dico? Ma veramente, mandatevela a piander culo! E sono stufa, ragazzi, sono stufa. Adesso non parlo solo di me, ma in generale, perché queste, evidentemente, sono considerazioni che certa gente ha nei confronti di chiunque. Sono stufa di sentire persone dire ah, ma guarda, fa finta dei pianghi e perché così attira un pochettino l'attenzione. Perché questo è, ragazzi, proprio segnale e indice del fatto che solo perché voi non ne siete capaci, non siete capaci di provare un minimo di empatia nei confronti di niente. Pensate che tutti quanti non siano capaci di essere un minimo empatici. Pensate che tutto il mondo sia una merda come lo siete voi. Smettetela, quindi, per favore. Questo è lo stesso identico atteggiamento del bugiardo che crede che tutti quanti siano bugiardi. Solo perché voi siete vuoti e avete un buco nero dentro di voi non significa che tutti quanti lo siano. Quindi, per favore, piantatela. Piantatela di far sentire sbagliate le persone perché sono emotive. Smettetela di ridicolizzare l'emotività delle altre persone. Smettetela perché non potete capire quanto può far male, quanto può ferire il non sentirsi capiti, quanto può ferire il non sentirsi compresi nella profondità della propria sensibilità. Io capisco che siamo tutti quanti diversi, capisco che nessuno mai proverà le stesse cose che provi tu, però, ragazzi, si tratta di un minimo anche di rispetto delle altre persone. Quindi, se non riuscite ad essere un minimo empatici, ma questo è evidente, abbiate almeno rispetto dell'emotività e della sensibilità e dell'empatia delle altre persone. Abbiate rispetto, come voi sicuramente pretendete rispetto dalle altre persone. Quindi, smettiamola di etichettare l'emotività e la sensibilità come un qualcosa di cui ci si deve vergognare o come un qualcosa di fasullo, come un qualcosa di recitato. Smettetela! Smettetela! Io vi chiedo scusa, ragazzi, per questo sfogo, però evidentemente prima o poi doveva arrivare, no? Doveva arrivare questo momento di consapevolezza, doveva arrivare il momento di dire no, io non mi vergogno di essere sensibile, no, io non mi vergogno di essere emotiva. Non mi sono mai vergognata, ragazzi, da quando mi sono messa su YouTube. Ho sempre fatto quello che mi sentivo, sono sempre stata me stessa, sono sempre stata sincera. Sinceramente non le palle piene attualmente di essere ancora considerata una persona che finge, una persona che è falsa. Perché cosa, ragazzi? Perché cosa? Ma smettetela! Smettetela di farlo con me, smettetela di farlo con chiunque. Doveva arrivare il momento in cui io dico ad alta voce sì, sono sensibile, sì, sono emotiva, sì, mi commuovo facilmente, sì, mi metto a piangere facilmente. E allora? Ho addirittura sentito dire che è facile, che è possibile fingere di piangere, che è facile e possibile. D'accordo, ragazzi, se lo credete voi, liberissimi, liberissimi davvero di farlo, ma sono più di dieci anni che sono su YouTube, ragazzi, e io, veramente, io personalmente non mi devo rimproverare niente, perché sono sempre stata quella che avete visto, ragazzi, non ho mai avuto bisogno di fingere nulla, quindi, se siete abituati ad altre persone, altri creators, che è palese, che fingono, sono cazzi vostri, ragazzi. Basta che non è andata a rompere i coglioni alle altre persone che si fanno i cazzi loro e che vogliono avere le proprie attività sul web in santa pace. Il rispetto deve stare alla base di tutto, non ci può essere l'empatia, perché purtroppo non siamo tutti empatici, sarebbe un mondo migliore se fossimo tutti empatici, ragazzi, allora ricordatevi la norma di base, cavolo, il rispetto, perché voi, vi ripeto, non potete sapere, ma probabilmente non ve ne frega un cazzo, non ve ne frega un cazzo di ferire magari un'altra persona, perché siete talmente vuoti, siete talmente vuoti, che non ve ne frega un cazzo, benissimo. Siete contenti di essere così vuoti, ragazzi? Mi fate veramente tanta tristezza, davvero tanta tristezza, perché l'unico momento di soddisfazione che riuscite a trovare nella vostra vita è quello di magari andare a cercare di demolire altre persone. Mi fate veramente molta tristezza, ragazzi, molta tristezza. Quindi sì, d'ora in avanti, me verrà da piagne per qualche motivo, me metterò a piagne, non me ne frega un cazzo, come non me ne è mai fregato un cazzo, ragazzi. E potete tranquillamente venirmi pure a scrivere che fingo, che faccio finta, quei commenti moriranno con voi nella completa assenza di significato di quello che avete scritto. E quindi tutto qua. Io penso che questo video forse è un po' insomma, un video sfogo, perché vi ripeto, l'argomento adesso riguardava anche me personalmente, ma vuole essere ovviamente ragazzi allargato comunque su più larga scala, scusate il modo di dire, ma spero che mi abbiate capito. Insomma, quest'argomento comunque ovviamente non riguarda solo me personalmente, in questo caso sì, ma vuole essere riferito in generale ragazzi a tutto quello che comunque magari succede sui social, su queste varie piattaforme, insomma persone che vogliono magari dimostrare un pochettino la propria emotività e devono avere paura di farlo. Non esiste ragazzi, anzi, penso che si dovrebbe essere fieri di provare ancora qualcosa in questo mondo d'oggi. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, ciao!